Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio portare nel fantastico mondo delle 125, due tempi anni 80 e 90. Lo sappiamo, anni irripetibili, anni fantastici per chi ha avuto la fortuna di viverli. Lì mi ricordo orde di motociclisti sedicenni, diciottenni al massimo, ai semafori in 10, 15, partenze assurde, veramente dei tempi stupendi, pericolosi da una parte, ma stupendi. E ho avuto la fortuna di viverli, ho avuto anche io la 125, un po' in ritardo, 18 anni, ma sono tempi davvero indimenticabili. Cosa voglio vedere con voi oggi? Beh, le quotazioni assurde che hanno raggiunto, i valori di vendita che ormai ci sono, sui modelli su quelli che hanno preso più valore, vedere un po' e percorrere la storia, farvi un sacco di domande, voglio sapere la vostra opinione e adesso appunto le domande ve le farò durante il video. E per quanto riguarda proprio le valutazioni, beh, sicuramente c'è da innanzitutto fare un ragionamento, conservato o restaurato? E anche su questo che voglio la vostra opinione e vi darò la mia. La storia ci ha fatto vedere che dall'88 al 90 c'è stato un salto epocale. Si è iniziato con le prime 125, mi vengono in mente l'HRD, il RGV della Gilera, l'NS della Honda, l'NS 125F e lì parliamo di metà anni 80 circa, poco prima, 83, 84, 86, 87. Poi dall'88 è iniziata una svolta che è durata 2-3 anni e in questi pochi anni è come se si fosse fatto un balzo in avanti di 10, di 15 anni, con dei modelli veramente assurdi. Ma prima di iniziare, piccola parentesi, sabato 15 aprile, quindi fra qualche giorno, ci sarà un raduno a Lecco con un giro itinerante, Lecco, Colico, Mandello, con anche visita al Museo Guzzi di Mandello, con i ragazzi dei nostalgici delle 125 due tempi, anni 80 e 90. Gruppo che trovate su Facebook, su Instagram, numerosissimo, con tantissimi membri, con tantissimi appassionati e con loro andrò a farmi questa giornata in compagnia anche di Ezio Gianola, quindi vice campione del mondo dell'89 su Honda, nel moto mondiale appunto 125, che ci regalerà la sua presenza durante tutto il giorno, pranzo compreso, con il quale si potrà chiacchierare. Quindi è stata una giornata veramente affascinante, questo è poco ma sicuro, ma di sicuro vedrete un sacco di moto che vi riempiranno gli occhi di gioia, per chi le ama e per chi non le vede tante in giro. Quindi se volete aggiungervi andate sui loro profili Instagram o Facebook, fatevi sentire e mandate le messaggi e vi scrivete. Prima domanda che vi faccio, voi preferirei su una moto restaurata o conservata? Intanto vediamo velocemente la differenza. Allora, conservata naturalmente è una moto che non è mai stata restaurata, che preserva anche piccoli difetti dovuti al tempo, 20, 30, 40 anni, con anche magari qualche spaccatura sulle carene, qualche mancanza di vernice, però ecco non troppo evidente, non che richieda appunto un restauro, ma che possa essere o ritoccata leggermente, non in modo invasivo, quindi deve essere conservata il più possibile, come mamma l'ha fatta, proprio anche a livello di estetica, colori, quindi non vengono fatti interventi particolari di cambiamento. Restaurata, restaurata è invece una moto che viene ripresa da zero, spesso e volentieri a telaio, viene rimessa su in piedi, viene riverniciata in toto, magari anche il telaio stesso, vengono proprio ripristinate molte delle parti dal motore, come anche in realtà hanno conservato, un motore può essere naturalmente, deve essere revisionato, in un restauro, magari può essere anche proprio del tutto cambiato, piuttosto che l'estetica, l'estetica che richiede magari verniciatura totale, nuovi adesivi, il risultato finale qual è? Beh, restaurato, perfetto, e naturalmente deve essere corrispondente all'originale, in tutti i dettagli, in tutti i particolari, beh, appare veramente come appena uscita la concessionaria, conservato, conserva quei piccoli difetti, come dicevo. La mia opinione? Beh, allora, io tra le due preferisco il conservato, perché preferisco un qualcosa che abbia quei piccoli segni del tempo, mi sape di più autentico, anche se non disegno assolutamente una moto completamente restaurata. Voi cosa ne pensate? Cosa preferite? E secondo voi, quale vale di più su uno stesso modello? Un conservato, un perfetto conservato, o un perfetto restaurato? Ma veniamo agli oggetti del video di oggi, quindi quelle che sono le moto che hanno preso valori assurdi. Parliamo di moto 125 dai 7000 euro in su, con cifre da capogiro, anche 10k raggiunti come valore. Come non cominciare dalla giliera SP01, e dalla giliera di conseguenza SP02. SP01 è uscita nel 89, maggio 89, quando è uscita ha veramente dettato leggi, ha dettato anche leggi in quello che era l'innovazione. In quel momento avevamo l'NSR naked piuttosto che carenata, avevamo il C12 o il C10 ancora, quindi moto già che cominciavano ad essere molto sportive, molto belle esteticamente. SP01 e 02 poi che è uscita invece nel aprile 90, quindi solo un anno dopo, anche qualcosa di meno, modello che come differenza aveva la forcella a steli rovesciati, sull'SP01 invece avevamo dei marzocchi da 35 mm non rovesciate, mentre sull'SP02 avevamo delle paioli da 40 mm, quindi belle e robose, appunto con steli rovesciati. Quindi è la più grossa delle differenze tra i due modelli. Queste due moto, oggi le troviamo, l'SP01 io non la vedo, oltre a vederla perché davvero a trovarne di usate ce ne sono veramente poche, spesso non ce ne sono sui vari annunci, arrivano a 7500-8000 euro, solamente devono essere perfette, o conservate o ristorate, ma devono essere veramente perfette per questi prezzi. L'SP02 si trova leggermente meno, 7000-7500, quelle pasticciate, quelle che non hanno tutte le parti originali, quelle che hanno restauri non fatti ed esperti, e mi raccomando, se doveste imbattervi in una moto di restaurare, affidatevi solo ad esperti di quel prodotto, di quella moto, di quella proprio anche marchio magari, perché solo loro conoscono i veri segreti e solo loro possono restaurarvi la moto come deve essere fatto e quindi mantenere di conseguenza quello che è il valore reale della moto. Passerei al mondo Aprilia, beh, tra i vari modelli, c'era l'F1 Proget 108, l'F1 Replica, quella bianca, rossa e verde, piuttosto che la Sintesi, uscita nell'88, piuttosto che la Sintesi Sport, uscita se non sbaglio proprio l'anno dopo nell'89, moto che sicuramente conosciamo e ad oggi hanno valori comunque intorno ai 4-5 mila euro, beh, probabilmente la futura, l'SP vera e propria, quella a valori più sostenuti, siamo intorno ai 6.000 euro, 5.500-6.000, quindi sono comunque prezzi leggermente al di sotto di quello che invece ci dicono i modelli Gilera. Passando in casa Gajiva, beh, dopo il C9, il C12, che anche lì siamo su prezzi tra i 4-5 mila euro circa, la Gajiva Mito ha raggiunto prezzi decisamente più straordinari. Una Gajiva Mito tradizionale può arrivare tranquillamente a 6.000-6.500, ma i modelli, Lawzone, piuttosto che Denim, piuttosto che Lucky Explorer, beh, lì, la Lawzone in assoluto, vedo che ha quotazioni che sono veramente assurde, siamo intorno ai 10.000 euro, 9.000-10.000, sono veramente prezzi altissimi, voi li spendereste per una Lawzone del 93, una cifra del genere? Quindi la Mito decisamente è una delle moto ad oggi più ambita e ad oggi che ha preso decisamente più valore. Come non parlare della mia NSR, in due versioni, a parte le tradizioni naked e carenate nelle varie colorazioni, ma le due edizioni SP, Rotmans piuttosto che Ecuador come la mia, beh, anche lì siamo a valore intorno ai 7.000-7.500. E poi tornando al mondo Gilera, beh, la casa di Arcore, in quegli anni, veramente ha investito un sacco di soldi, dall'89 appunto, al 91, al 92, quando ha cominciato a avere poi anche crisi, proprio di mercato, infatti poi nel 93 ha chiuso i battenti, ma nel 91 ha fatto uscire la Crono e anche la CX, CX che era veramente un modello futuristico, infatti a me quando è uscita proprio non è mai piaciuta, come non è piaciuta penso a molti, ma oggi ha preso un valore incredibile, perché ne aveva venduto poche, era veramente futuristica, aveva il monobraccio anteriore, con una carenatura molto coprente, molto così aerodinamica, molto futuristica appunto, e ad oggi quella moto, quella versione, oltre ad essere abbastanza rara, è difficile da trovare, anche quella a quotazione intorno ai 10.000 euro. La Crono anche quella ha avuto pochissimo riscontro, dopo le SP01 e le SP02, probabilmente anche perché quelle sono state veramente percepite dagli adolescenti e dal mercato in un modo veramente straordinario, la Crono già sembrava quasi un po' più stradale, anche se aveva certo delle caratteristiche molto vicine alla SP01 e 0.2. La troviamo intorno ai 6.000 a 6.500, e poi nel 92 uscì la GFR, GFR sta per Gilera 4 Racing, anche quella venduta, ma ormai la casa, la Gilera era veramente in crisi, e infatti poi come dicevo, l'anno dopo il 93 ha chiuso, anche la GFR trovarla è davvero difficilissimo, e anche qua se si trova, siamo comunque su valori intorno ai 7.000 euro. A voi cosa vi piacerebbe mettere in garage, tra queste bellezze, che ancora oggi quando le vediamo passare, ci si cadono gli occhi ragazzi, sono bellissime da vederle, anzi, ai raduni, quello di sabato 15, se venite, sicuramente vi rifate gli occhi, lo spirito e anche l'olfatto, perché quando sono tutti insieme da vedere, sono bellissime, si possono fare delle bellissime foto, dei bellissimi video, sono ricchi ricchi di emozioni, quindi per chi può, all'ECCO, ci sono anche io appunto, come dicevo, se vi fa piacere venire e conoscermi, insomma, mi trovate con la mia NSR. Poi naturalmente ci sono tante altre 125 che comunque sono ricercate, prima e dopo l'88, il 91, ci sono modelli che non ho citato naturalmente, perché sono veramente, erano veramente tantissime, penso che queste che ho elencato, sono quelle che hanno raggiunto davvero i valori più straordinari, più alti, secondo voi è una bolla, secondo voi è un qualcosa che invece, saranno prezzi che saranno mantenuti, si alzeranno ancora, oppure secondo voi è una bolla che magari si sgonfierà a breve. Se vi piacciono questi video dedicati alle 125, ditemelo perché ho in mente tante idee, potrei fare un po' di contenuti su questo aspetto, quindi vi aspetto sabato 15, come dicevo, c'è Ezio Gianola, pilota che sarà un piacere anche ascoltare e sentire, magari ci racconterà qualche aneddoto. Ragazzi, aspetto i vostri commenti, aspetto le risposte alle mie domande, e niente, ci vediamo prestissimo. Ciao!